Dal 21 aprile test serologici a partire dagli operatori sanitari e sociosanitari, i numeri di regione Lombardia sulla diffusione del coronavirus in provincia di Bergamo 35 nuovi casi. Open day online all'Università degli Studi di Bergamo, il rettore Remo Morzenti-Pellegrini nel comitato dei sei saggi che aiuterà il presidente di regione Lombardia nel costruire il post-emergenza. Le amministrazioni comunali si preparano alla fase 2, il sindaco di Rovetta Mauro Marinoni afferma, intravedo difficoltà per i comuni. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antenna 2. Saranno effettuati 20.000 test serologici al giorno dal 21 aprile, cominciando dagli operatori sanitari e sociosanitari dalla Lombardia e dai cittadini che devono tornare al lavoro con particolare riferimento alle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi. Lo comunica in una nota a regione Lombardia. I test certificheranno l'immunità al virus e, prosegue la nota, permetteranno di gestire in modo consapevole la cosiddetta fase 2. E ora proseguiamo con il punto della situazione e con i numeri forniti dalla regione Lombardia attraverso la conferenza stampa di questa sera con l'assessore alla welfare Giulio Gallera. Sono ormai molti giorni che noi assistiamo ad un consolidamento positivo della situazione. Il numero dei positivi oggi è di 61.326, sono 1.012 in più, erano 1.262 ieri. Farò poi una riflessione sul tema dei positivi. I dati però più rilevanti quali sono? Il numero dei ricoverati, 12.077 più 49, cioè oramai il numero dei ricoverati si è praticamente ridotto a zero. Noi abbiamo 100 ospedali, 27 SST più 49 ricoverati in più, vuol dire che praticamente il numero dei ricoverati si è praticamente a zero. E questo è il dato che evidenzia i risultati dei grandi sforzi che ognuno ha fatto. Il numero, le pressioni sulle terapie intensive, 1.122, oggi siamo a meno 21, quindi il dato di occupazione dei posti letto di terapia intensiva continua a diminuire. Il numero dei dimessi, 392, siamo arrivati a 17.821. Il numero dei decessi, a questo è arrivato un numero alto, 11.142 più 241, ieri era più 280. Il dato quindi che è emerso ormai in maniera consolidata e strutturata che emerge dalla lettura dei dati degli ultimi giorni è un dato confortante. Chiederei anche di mandare la slide sul 112. Vedete quella che è la situazione di questi giorni, vedete come il dato si è drasticamente ridotto, in maniera significativa in tutte le sue aree, sia sull'area di Bergamo-Brescia che quella blu, sia sull'area di Milano come si è abbassato fortemente, sia l'area della TS Valpadana che della zona che è quella azzurrina di Cremona e Varese. Il dato anche delle province che vi racconto è quello di un dato in una situazione positiva, e cioè Bergamo 10.426 più 35, ieri era più 82, Brescia 11.093, Como 2.106 più 91, Cremona 5.127 più 227, ieri era più 224, quindi in linea con quello di ieri, Lecco 1970 più 59, Lodi più 2.569 più 10, quindi vedete come un dato ormai è quasi fermo e consolidato, Monza e Pianza 3.821 più 101, Milano 14.350 più 189, ieri era più 481, quindi un dato che si è ridotto in maniera significativa, Monza 2.631 più 60, Pavia 3.246 più 53, Sondri 849 più 53, Varese 1.813 più 102. Il dato di Milano è un dato che oggi vede una crescita di più 57, ieri era a più 296, quindi questo per dare la dimensione. Triste notizia per l'Università degli Studi di Bergamo, è scomparso il professor Giorgio Zego, classe 1934, l'epoca ordinario di matematica e finanziaria, rettore dell'Ateneo dal 1975 al 1984. Grande l'impegno di Zego nella missione di internazionalizzazione dell'Università, promuovendo iniziative a respiro globale. Durante il mandato l'Università si ampliò in termini di spazi occupando la porzione di Palazzo Terzi, in cui attualmente si trova la sede universitaria di Via Salvecchio. Il 14 novembre del 2000 l'allora rettore Alberto Castoldi conferì proprio al professor Zego la laurea a onore scausa in economia e commercio, un momento a cui si riferisce anche la fotografia che vi abbiamo mostrato. L'Università degli Studi di Bergamo, dopo la didattica a distanza, organizza anche in modalità digitale gli open day. Sentiamo a tal proposito il rettore e il professore Remo Morzenti Pellegrini, recentemente nominato nel comitato dei sei saggi che si è insediato proprio oggi con l'importante compito di aiutare il Presidente della Regione Attilio Fontana a costruire il post-emergenza. State per presentare gli open day a distanza. Sì, con un nuovo slogan, facciamo del vostro meglio. Cioè è un modo per dire ai futuri studenti della nostra università che stiamo facendo del vostro meglio per gli studenti che verranno. E le tre parole che abbiamo voluto essere, diciamo così, presenti nella nostra agenda sono la regolarità, quindi mantenere le scadenze che ci eravamo dati anche negli open day, la sicurezza, cioè il fatto che stiamo immaginando già per l'anno prossimo una parte degli insegnamenti anche a distanza, e la qualità. La qualità è la nostra stella, come dire, polare. Il fatto stesso che abbiamo scelto di, come dire, invitare gli studenti futuri agli open day virtuali, cioè in rete ma in diretta, è un significato che per noi è di massima attenzione verso i nostri studenti futuri. Quindi da giovedì 16 fino al 24 ogni giorno c'è la possibilità di seguire in diretta la presentazione di un corso di laurea. Quindi è un modo, ovviamente inedito, com'è un po' inedito anche tutto quello che sta succedendo in tutte le università del nostro paese e non solo, cioè quello di avere sperimentato questa opportunità della formazione a distanza e lo abbiamo voluto anche, come dire, sperimentare anche per gli open day. Quindi è un'opportunità alla quale invitiamo i futuri studenti a collegarsi. E' stato richiesto nel comitato dei sei saggi con il compito di aiutare il presidente della regione Attilio Fontana. Innanzitutto va subito ringraziato il presidente per aver scommesso sulle università. Questo secondo me è un segnale importante che la regione ha voluto dare, cioè quello di affidarsi alla scienza e alla conoscenza. In questo comitato abbiamo un compito molto importante che ci responsabilizza non solo come rettori, ma anche come cittadini in primis, cioè quello di immaginare quale può essere lo scenario di riferimento della regione Lombardia, non dimentichiamolo, una delle regioni più colpite al mondo sicuramente dall'epidemia, ma anche una delle regioni che rappresenta il traino del nostro paese e uno dei quattro motori dell'Europa. Quindi il compito che ci è stato affidato è un compito di affiancamento, di proposta, di valutazione di quella che può essere la situazione di uscita anche da questa emergenza. Innanzitutto abbiamo il compito di immaginare qualcosa che è veramente difficile, cioè che a fronte di questo limite può nascere anche una opportunità. Si sono immaginate tre fasi, una purtroppo è ancora emergenziale, che è la fase 1, che tutti nota, è ancora purtroppo in essere e che si può stimare con un'analisi approssimativa che si concluda come fase emergenziale, speriamo, entro il prossimo 3 maggio. Quindi da qui a quella data bisogna immaginare che cosa fare, come e quando. Poi un'altra fase che può iniziare nel mese di maggio, una fase in cui si deve fare una proposta anche per il mondo delle attività produttive e non solo per la pubblica amministrazione, per il sistema della scuola, dell'università. E poi una fase di continuità che è per i prossimi 18 mesi. Questo è un compito quindi di affiancamento, di proposta e di analisi. E proseguiamo con una nota dalla regione Lombardia. Il comitato composto del Rettore dell'Università Cattolica di Milano, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, Università Bicocca di Milano, Università Boccone di Milano e dal Presidente del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Lombardi, l'Erettore dell'Università di Bergamo, in rappresentanza di tutte le università lombarde, si è riunito, prosegue la nota in teleconferenza, la presenza del Vice Presidente Fabrizio Sala, dell'Assessore alla Bilancio Davide Caparini, dell'Assessore alla Montagna Massimo Sertori, dell'Assessore all'Ambiente Raffaele Cattaneo e di quello all'Agricoltura Fabio Rolfi. Il Comitato a concludere la nota avrà il compito di fornire al Tavolo per lo Sviluppo di Regione Lombardia, al quale siedono tutti i rappresentanti delle categorie sociali e produttive, un progetto che nell'analizzare temi economici, sociosanitari, scientifici e culturali fornisca indicazioni per la ripartenza della Lombardia su medio e lungo periodo. Tale progetto, nel quale sono coinvolti capigruppo di maggioranza e opposizione in Consiglio regionale, dovrà tenere conto della specificità lombarda puntando su innovazione e inclusione. E ora voltiamo pagina, è morto il giorno di Pasqua mentre era in missione in Africa Don Francesco Orsini, aveva 72 anni ed era originario di Boario di Gromo. Dal 1989 era missionario in Costa d'Avorio, tre mesi fa aveva rischiato di essere rapito da terroristi locali, settimana scorsa era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Purtroppo il suo fisico non ha retto e ha cessato di vivere il giorno di Pasqua. Era stato ordinato il 24 giugno del 1972, è stato coaditore parocchiale a Colere nelle 72 e 73, a Ponte Nostra dal 73 al 78 e a Paladina dal 78 all'81. A seguire poi fino all'89 è Cappellano degli Immigranti in Svizzera e dall'89 in poi in Africa, come abbiamo detto, missionario in Costa d'Avorio. E anche dopo Pasqua riprende la Santa Messa in onda dalla Chiesa di Clusone, questa settimana dalla Basilica di Clusone. La Santa Messa verrà trasmessa sul canale 88 di Antena 2 alle ore 17.30, di mercoledì, giovedì e venerdì. Il sabato invece resta appuntamento alle ore 18 con la Santa Messa dalla Chiesa di Fino del Monte. E le amministrazioni comunali stanno ancora gestendo l'attuale fase, ma stanno pensando anche al futuro, alla cosiddetta fase 2, sperando in una graduale ripartenza. Abbiamo fatto il punto con il primo cittadino di Rovetta, Mauro Marinoni. Siamo in collegamento Skype con il primo cittadino di Rovetta, Mauro Marinoni. Siete al lavoro per cercare di immaginare come potrebbe essere gestita la fase 2. Sì, buonasera a tutti. In effetti l'emergenza sanitaria esiste ancora, per cui ci stiamo preoccupando di quelli che sono ovviamente gli elementi che comportano un'attenzione particolare dal punto di vista sanitario. Però bisogna anche pensare a quello che succederà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Sappiamo, ormai è abbastanza certo, che dovremo convivere con questo virus. Purtroppo, almeno questo ci viene detto dagli esperti, per cui anche i comuni devono attrezzarsi per vedere di affrontare le difficoltà che ci saranno. a brevissimo. Innanzitutto sappiamo benissimo che ci saranno problemi legati alle difficoltà di carattere economico da parte di numerose persone. Pertanto bisognerà cominciare a riflettere sulla possibilità di stornare determinati fondi destinati per ora a determinate esigenze, per dirottarli sulle esigenze di carattere economico, che vanno ovviamente dal sostegno alimentare, ma anche di altra natura. Pensiamo, per esempio, soprattutto al discorso della necessità di potenziare l'assistenza sanitaria a livello domiciliare. Molte sono le persone che lo richiedono e quindi occorrerà assolutamente potenziare questo servizio. Dopodiché immaginiamo che anche in una riapertura delle scuole ci saranno delle esigenze particolari di spazio, di attrezzature. Io credo che dovremo, per esempio, diventare dei distributori di mascherine per un certo periodo. Dovremo acquistare ovviamente anche materiale per l'igienizzazione e quant'altro. Tenendo però conto che esistono anche molti altri problemi sul fronte di carattere economico. Perché? Perché i comuni non stanno incassando. Ovviamente abbiamo tutti posticipato l'incasso, per esempio, di Tarif e COSAP, per cui esistono dei problemi di liquidità. E poi ci sono problemi, per esempio, legati alle scuole. Le scuole materne, è stato deciso dal Consiglio di Amministrazione, per esempio, della scuola di Rovetta, di non far pagare le rette per marzo ed aprile. Ma la cosa, se si protarrà, diventerà un problema di sussistenza per queste scuole. Per cui dovremo anche lì intervenire dal punto di vista finanziario se vogliamo che a settembre la scuola possa riaprire e ricominciare ovviamente il suo lavoro. Insomma, dobbiamo agire tutti su questo fronte. Dobbiamo essere preparati, tenuto conto che naturalmente le risorse non sono certamente risorse abbondanti. Aspettiamo che lo Stato ci aiuti, ma credo che l'aiuto non sarà quello che speriamo. Stiamo a vedere, ma ci si prospetta veramente una situazione di crisi, simile probabilmente a quella di un dopoguerra, ma senza avere le prospettive di avere di un piano di aiuti Marshall come è avvenuto alla fine della Seconda Guerra. Vedremo un attimino di stringerci tutti attorno per cercare di trovare le soluzioni migliori. Non posso poi esimermi, perché è necessario che venga fatto, di ringraziare tutti coloro che hanno collaborato in questo periodo veramente difficile. I volontari sono veramente numerosi, i consiglieri comunali. Io posso dire una cosa, veramente, nel momento di urgenza e di necessità, la popolazione e la gente riesce a dare veramente il meglio di se stessa. Grazie a tutti. E diverse amministrazioni comunali con l'emergenza coronavirus hanno potenziato i servizi di comunicazione rivolti ai cittadini. Abbiamo sentito l'assessore alla cultura delle comuni di Sovere, Silvia Beretta. Siamo in collegamento Skype con Silvia Beretta, assessore alla cultura delle comuni di Sovere. Avete attivato una linea WhatsApp con cui veicolare maggiori informazioni ai cittadini. Esatto, sì, questo servizio è attivo in realtà da sabato mattina, quindi è stato proprio un servizio partito in questi giorni. Tra l'altro aggiungo che in questi soli due giorni, tra giornata di Pasqua e Pasquetta, siamo già arrivati a 300 contatti che si sono aggiunti appunto su questo servizio. È un servizio in realtà in cui crediamo moltissimo perché ci permette di raggiungere più persone possibili, soprattutto di tutte le fasce di età possibili. Dalla persona più giovane, che magari non ha ancora un account Facebook o altri profili, fino a una persona invece più anziana, che però ormai un account WhatsApp comunque sul telefono ha. E quindi questo ci permette di raggiungere più persone possibili per diversi tipi di informazioni. Quindi in questo momento ovviamente la fa da padrone l'emergenza Covid-19, ma il nostro obiettivo appunto a lungo termine è quello di riuscire a raggiungere tutti con tutte le informazioni necessarie che possono passare da la cultura per quanto mi riguarda, ma fino alle informazioni di ragioneria, piuttosto che le informazioni dell'ufficio tecnico, di variazioni stradali, eccetera. Ecco un piccolo promemoria semplicemente sul come funziona questa modalità, una modalità podcast e quindi tutte le persone che si iscrivono a questo servizio viene inviato un messaggio di benvenuto che ricorda le varie caratteristiche, quindi semplicemente per chi si vuole iscrivere deve registrare sul proprio cellulare l'indirizzo appunto di riferimento che trova sul sito interna del comune e inviare un messaggio con scritto semplicemente iscrivimi e appunto riceverà tutte le informazioni di policy e privacy e da lì semplicemente una persona è iscritta e riceverà le varie informazioni nel momento in cui qualcuno si vuole disiscrivere semplicemente dovrà rimandare un altro messaggio in cui richiede di non ricevere appunto più queste informazioni. Essendo una struttura podcast ovviamente, una struttura broadcast in realtà, questo ci permette di raggiungere tutti dando la possibilità di gestire la privacy delle altre persone inserite all'interno della chat, quindi noi non vedremo le altre persone inserite all'interno del gruppo. Ecco proprio in questa fase di emergenza avete compreso quanto sia importante mantenere stretto il legame, il contatto con i cittadini. Esatto, assolutamente sì. Infatti oltre a questo servizio teniamo sempre costantemente aggiornato il nostro sito internet comunale che è stato implementato ed è in stretta collaborazione con Regione Lombardia perché la piattaforma è fondamentalmente la stessa e un'implementazione del servizio newsletter, quindi anche quello è estremamente immediato che ci permette davvero di raggiungere tutti e utilizzando ovviamente le informazioni a livello istituzionale che ci sono sul sito web, quindi oltre a info ovviamente di news sul comune ma anche dei video registrati da noi come amministratori comunali che ci permettono di avere un contatto un po' più un po' più affine con i nostri cittadini in modo da poterci vedere quasi di persone e questo ci permette di entrare davvero nelle case di tutti con un messaggio che è quotidiano e un po' più di cuore, ecco questo. E mentre il decrescere del fenomeno alimenta la nostra speranza dietro alle statistiche ci sono i volti e le storie. Questa sera vogliamo condividere con voi la storia di Giulio Cestari professore di lingua inglese a Leinaudi di Dalmine e il professor Cestari in via di Guarigione dopo un lungo periodo di malattia al proprio domicilio ma sentiamo una sua riflessione. È andata in maniera molto tragica, molto terribile come è successo ad altri cittadini nelle stesse condizioni cittadini che si ritengono comunque fortunati rispetto a quello che è stato l'esito di altri che oggi purtroppo non possono essere in vita con noi. Il 14 marzo è cominciato ad avere febbre poi febbre sempre più forte e per 11 giorni febbre 39, 39 e mezzo con tosse ma soprattutto con il respiro che cominciava a mancare. Quindi giornate trascorse con il saturimetro attaccato al dito e ogni mezz'ora registrare, monitorare i valori che andavano sempre in caduta. Quindi una situazione sanitaria davvero molto molto tragica per diversi giorni senza alcuna prospettiva di successo nel senso del miglioramento tanto auspicato definitivo e invece no appunto i valori sempre peggiori e sempre in basso ma al di là dei valori la difficoltà enorme di riuscire fisicamente a respirare e di guadagnare, assicurare anzi una normalità in una funzione che per noi è così spontanea appunto respirare. Insieme a tutto questo sono nate delle paure, delle fobie perché il terrore della morte di non riuscire a farcela sono stati tutti questi elementi che hanno caratterizzato non le giornate ma i singoli momenti di chiara, lucida consapevolezza di ciò che stava accadendo. Tutta questa paura come è stato possibile affrontarla? Sicuramente è stato possibile affrontarla in un ambiente favorevole forse sono stato fortunato anche in questo nel vivere l'esperienza della malattia a casa quindi con i propri familiari con gli affetti sentire la vicinanza di tanti e di tutti non è stato facile non è facile anche perché una delle manifestazioni di questa malattia è proprio la rassegnazione cioè quando si guadagna la consapevolezza di non riuscire fisicamente più a farcela nasce il mollare la presa va come deve andare ed è una dimensione in cui noi nel nostro quotidiano non ci troviamo mai perché come esseri umani siamo reattivi fisicamente psicologicamente e non pronti comunque per queste situazioni così terribili e dicevamo fino a qualche tempo fa in verosimi invece sono così vere e reali per noi la rassegnazione però è stata anche una fase di passaggio un gradino si è poi coniugata con una migliore condizione fisica nel tempo e appunto è nato il pensiero questo anche nelle varie critiche nelle comunicazioni con i familiari con i conoscenti un pensiero di costruire sappiamo come tutto non è andato così bene in modo soddisfacente per quanto riguarda la considerazione il trattamento riferito alla malattia ai singoli pazienti la volontà di costruire questo è il pensiero proprio potrebbe essere anche una titolazione di uno slogan la volontà dalla consapevolezza che supera la rassegnazione e il costruire è l'elemento di cui questa terra ha veramente bisogno con tutte le sue ricchezze bellezze risorse che purtroppo sono state perse come riferimento perché la cronaca ha chiamato verso una realtà così negativa e nefasta voglia di costruire di edificare di nuovo ecco e di dare nuove affermazioni soprattutto ai nostri giovani che non toccati secondo i dati da questa malattia hanno bisogno di guadagnare una consapevolezza sociale civica non rispetto ai morti non rispetto alla malattia ma proprio rispetto alla definizione di una società migliore corretta trasparente funzionale rispettosa un nuovo fiocco al parco faunistico le cornelle non è ancora possibile sapere se è rosa o azzurro ma il cucciolo di fianicottero rosa nato una decina di giorni fa è già il simbolo di speranza e rinascita che dal parco raggiunge tutti noi che stiamo vivendo questo momento particolare il nome il nome verrà scelto grazie al contest che è stato promosso sulla pagina facebook del parco che sarà attivo da domani mercoledì 15 a domenica 19 aprile il pulcino ha superato con successo sia la fase di incubazione di circa un mese che avviene dopo la deposizione dell'uovo fino alla schiusa sia il primo periodo di vita ed ha raggiunto gli altri 75 esemplari di fianicottero rosa che ospita le cornelli insieme alle altre specie di fianicotteri tra cui quello cileno e quello minore il fianicottero più anziano appartiene alla specie di fianicottero cileno e ha oltre 40 anni e questa sera torna in onda Antenna 2 Sport Elisa Cucchi ci anticipa i contenuti Amiche e amici di Antenna 2 TV come ogni martedì sera torna l'appuntamento sportivo con Antenna 2 Sport a partire dalle 21.30 il nostro salotto sportivo ormai virtuale andrà a incontrare ancora tanti atleti partendo da Silvia Persico atleta di ciclocross ci racconterà anche della sua specialità così particolare e di come è andata la sua stagione fino ad ora a seguire ci trasferiremo a Fiorano dove andremo a incontrare una scuola di danza che continua nonostante l'emergenza coronavirus ad allenarsi virtualmente proprio come la nostra trasmissione incontreremo la direttrice Chiara Ferrari e le sue atlete mi raccomando 21.30 puntuali non mancate proseguiamo con la programmazione televisiva questa sera sul canale 88 alle 20.40 trasmetteremo il sasso nello stagno alle 21.30 Antena 2 Sport alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale alle 23.10 tempi supplementari alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario il telegiornale di Antena 2 tornerebbe in onda anche alle ore 21.30 ma sul canale numero 218 del Digitale Terrestre sul canale sportivo questa sera al numero 628 del Digitale Terrestre due partite in replica alle 20.30 Virtus Lovere Villa Donia alle 22.30 a Vertovese Casatese Rogoredo al Manacco per domani mercoledì 15 aprile il sole sorge alle 6.28 tramonta alle 20.12 il culmine è alle ore 13.20 la durata del giorno è di 13 ore e 44 minuti la luna sorge alle 3.26 e tramonta alle 12.21 la luna calante ed è visibile al 49% la chiesa ricorda Sant'Annibale e con questo è tutto noi vi ringraziamo per la vostra attenzione a seguire le previsioni del tempo grazie e buona serata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti